25 aprile 2021, festa della liberazione. Oggi vi parlo di un libro che ho amato perché ci racconta e ci mostra, come in una specie di documentario girato sul luogo, che atmosfera si respirava tra i partigiani, come fosse un incontro totalmente antiretorico di tante persone diverse, come si andasse a combattere non per un anelito di eroismo, non per aspirare alla gloria, ma perché era necessario, perché non si poteva evitare. E quindi questo mi suona molto più eroico, perché come io da ragazzo mi incontravo con gli amici per leggerci dei libri, per fare i poeti estinti, invece questi ragazzi andavano in montagna per tirare al fascista, per sopravvivere, per fare l'unica cosa possibile. E allora vi voglio leggere alcune pagine di questo libro davvero bello, che alla fine vi rivelerò e che vi consiglio quindi oggi soprattutto di leggere. Alcuni passaggi per darvi questa idea di un eroismo reale, antiretorico. Domandai quindi al Castagna, perché siete qua voi altri? Il Castagna disse, come perché? Come mai che vi siete decisi a venire qua? E dove volevi che andassimo? Disse il Castagna. Questo chiuse questa parte dell'indagine. Poi io dissi, e quando finisce la guerra? Cosa pensate di fare? Andiamo giù, no? E cosa farete quando siete giù? I saccheggi, disse il Castagna. Annui con un senso di scandalo non disgiunto dall'ammirazione. Mi informai se c'erano dei piani prestabiliti per questi saccheggi. Mi parve di capire che il Castagna pensasse soprattutto a dei festeggiamenti, un banchetto all'aperto, il tiro alla fune, le corse nei sacchi tra ex fascisti. Sacchi, da cui forse saccheggi. E poi dissi, dopo i saccheggi, il Castagna si mise a guardarmi e disse, voi siete studenti, no? Io feci segno di sì, e lui disse, si vede subito, che siete finetti. Castagna, dissi, non credi che bisognerebbe provare a cambiare l'Italia. Non andava mica bene, come era prima. Si potrebbe dire che siamo qui per quello. A dirtela proprio giusta, disse il Castagna. A me dell'Italia non me ne importa mica tanto. Ma ti importerà chi comanda H9, no? Canove era il suo paese. Disse che si sapeva già chi avrebbe comandato H9. Sentiamo, dissi. Il sottoscritto, disse il Castagna. Solo per qualche giorno, facciamo qualche settimana. E dopo? Dissi io. Dopo andrà su un governo, no? Gli domandai se non gli interessava che il governo andasse su. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gli le feci vedere dalla parte delle palme, perché questa frase in dialetto vuol dire così. E lui ci mise vicino le sue. Sulle palme io avevo qualche callo qua e là. Ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita. Non erano calli, ma una mutazione dei tessuti. Vedi? Disse il Castagna. Quando va su un governo, noi altri dobbiamo lavorare. Anche se fossero fascisti, dissi. E no, per la Madonna, disse lui. I fascisti non sono mica un governo. Già, dissi io. I fascisti sono. Cercavo una formula salveminiana. Rotti in culo, disse il Castagna. Questo era il suo etos. Mi disse anche cosa avrebbe fatto se per disdetta tornassero su proprio loro. Allora, disse, torniamo su anche noi. Torniamo qua. Ottimo, ottimo, pensavo. Un altro pezzetto. A differenza di noi, Antonio non aveva alcun dubbio sull'orientamento generale della nostra attività. Sapeva esattamente come andava impostata l'intera faccenda e nei momenti di crisi non esitava mai. Era l'ora dei bandi e degli sbandati. Arrivava gente da tutte le parti. Ma Antonio non prendeva nemmeno in considerazione l'idea di arraffare questa gente e imbandarla in qualche modo. Non voleva sbandati imbandati, ma partigiani, già convinti. Una o due volte, nei momenti più critici, fece anche un discorso, sforzandosi di parlare in italiano anziché in dialetto, per aggiungere gravità a ciò che diceva. Sono tra le cose più belle che ricordiamo di lui. Si rivolgeva con estrema semplicità alla volontà stessa della gente, mostrando di credere che su null'altro al mondo si può costruire. Chi sente che vuole fare il partigiano, cioè resistere con le armi, perché è giusto così, non si spaventerà di quello che trova qui, il disagio e i rischi e le fatiche. Chi non sente così è bene che vada via. Non è vergogna se uno non sente così, ma non deve illudersi di fare il partigiano. Il suo posto non è qua. C'era qualcosa di semplice e grave in questa impostazione. Dopo che Antonio aveva parlato, quelli che restavano con noi si sapeva che erano partigiani. Madonna. E infine un pezzettino di scontro a fuoco. Anche questo però non proprio hollywoodiano, ok? Ma proprio com'era. Con la distanza del ricordo degli anni passati, perché questo libro non fu scritto immediatamente dopo gli eventi, ma se non erro, sì, il libro uscì nel 64. Dunque, ci siamo, si parte. Questa scena descrive un'imboscata che viene fatta a dei fascisti, a dei collaborazionisti, collaborazionisti che vivono in una piccola casupola di montagna. Ci siamo, si parte. Calano dietro a noi, tatticando in semicerchio cinque o sei compagni. A mezza costa sono schierati in appoggio, lontani e impeccabili, due altri plotoncini. Io e il finco scendiamo spigliati. Il gonfiore nella tasca di dietro dei calzoni non è fazzoletto da collo, non è grumo di calzetti di ricambio, ma negra pistola, piena di palle da nove. Il sentieruolo sbocca nel cortile del vaca. Siamo a venti metri dal cortile. Ho l'impressione di star facendo una mezza prepotenza, ma quando bisogna, bisogna. Il finco dice, la porta è quella sinistra. La porta di legno grezzo è chiusa. Siamo a dieci metri, sempre con un bel passo ritmato, e io dico ad alta voce, per entrare nella parte. Aspetta, va là, che gli domando acqua in questa casa qui, che ho una sete troia. A cinque metri la porta si spalanca, esce guardando per terra un uomo col viso preoccupato, e dietro di lui altri tre, preoccupati anche loro. Io apro la bocca per dargli la buonasera, e questi quattro, come in un teatro, alzano ciascuno il suo mitra, e sparano. Mai sparato nessuno a me così da vicino. Postumi di sole a destra, aria tersa a sinistra, festoni di ombre, cenere e blu. Gli oggetti erano intagliati teneramente nell'aria, e le lastre di pietra, rosa chiaro, che orlano il sentiero come muretti, e sono sempre oggetti belli, in qualunque luce, erano veramente incantevoli, tutte impregnate di quel po' di luce soffice e blanda. Io feci questo pensiero. Il primo deve essere il vaca, ma per fortuna i centri dei nostri pensieri sono multipli, e mentre io facevo questo pensiero, i miei muscoli ne avevano già fatto un altro, una specie di guizzo, e non ero più sul sentiero davanti ai mitra. Ma coricato per terra, dietro le lastre di pietra rosa, e i muscoli del finco dovevano aver fatto anche loro lo stesso pensiero, e con la stessa fulminia precisione, perché lì vicino c'era anche lui, coricato per terra. La pietra rosa, quando si scheggia, va in scagliette minute, e libera piccoli spruzzi, come di cipria. Il finco disse, fila, fila! Filammo via lungo la linea delle lastre rosa, parte correndo curvi, parte arrancando a quattro zampe, il modo che si chiama a gatto magnavo. I mitra continuavano a sparare. Nel punto dove il sentiero svoltava mi venne un'ondata di gioia. Gli altri, quelli in appoggio, si erano raggruppati qui e con loro ripartimmo in ordine sparso correndo su per il pendio. L'aria era scurita, le raffiche passavano alte. La gioia era gioia pura, benché non ci fosse tanto da rallegrarsi. L'azione era stata uno schifo. Mi sentivo come uno che è stato massaggiato violentamente. Ecco com'è, l'empirismo, pensavo. L'eroismo è più bello, ma ha un difetto che non è veramente una forma della vita. L'empirismo è una serie di sbagli e più sbagli più senti che stai crescendo, che vivi. Madonna che pagina, ragazzi! Ok, questo era I piccoli maestri di Luigi Meneghelli, partigiano, scrittore. E questo libro... Buon 25 aprile, buona festa della liberazione. Ciao a tutti!